BAD è una società nata nel 2006 che con la famiglia Bonanni ha rilevato un'altra azienda storica dell'Aquila che oggi fa servizio di distribuzione e vendita di materiali edili soprattutto nella città dell'Aquila e provincia. La ricostruzione post terremoto procede abbastanza bene anche se con tempi un po' lunghi, nello specifico nell'Aquila siamo arrivati verso la fine della ricostruzione, mancano ancora alcune zone centrali e alcuni comuni limitrofi e diciamo che è il settore dove si sta lavorando di più. Abbiamo avuto un ruolo nella fornitura dei materiali abbastanza importante anche perché logisticamente siamo a due passi dal centro storico dell'Aquila quindi abbiamo lavorato tantissimo dando anche un ottimo servizio. I prodotti Heidenberg Materials più richiesti sono stati, va bene, innanzitutto il cemento nelle sue varie forme, il paviforte, il muracem e soprattutto anche l'idrodrain che è un prodotto appunto innovativo che in un'unica posa sostanzialmente risolve il problema del drenaggio per quanto riguarda la posa in opera su strade, piazze e quant'altro. Il rebending è stato accolto ma in maniera positiva, penso che quando si facciano queste cose si facciano per migliorare tutti gli aspetti funzionali dell'azienda. L'aspetto più convincente di Heidenberg Materials sicuramente è la qualità del prodotto, il servizio che riescono a darci, per noi nello specifico la logistica in quanto è vicino alla nostra azienda e per tutti questi motivi riusciamo a lavorarci molto bene.